Massimo Laiolo, stiamo terminando la prima giornata del corso avanzato in materia di paghe e contributi. Questo corso si rivolge e si va ad inserire come persecuzione di quello che è la prima parte, il corso base. Qui le tematiche che andiamo a trattare nella prima giornata sono state le tipologie contrattuali, quindi alla luce di quelle che sono state le novità introdotte dal GEOBECT dello scorso anno, 81.015. Proseguiremo questo corso analizzando altre tematiche, come per esempio il trattamento di fine rapporto e nella seconda giornata sarò avvicinato dal collega Alberto Grattagliano, il quale seguirà poi invece le problematiche relative alla risoluzione del rapporto di lavoro e varie sul tema. Quindi gli argomenti di discussione che hanno sempre un taglio pratico, quindi si tenta in aula di cercare di approfondire poi con quelle che sono le problematiche che ognuno ha nel suo contesto di lavoro, nella sua realtà aziendale, quindi occasione anche di confronto su quelle che possono essere le criticità operative del caso.